Oh, sentite questo? Questo l'ho portato stamattina, senti, non ha mai, non ha mai suonato su Radio DJ. Come spinge anche questo? Piadino e la sabbia. Qualcuno dice, ma perché non torni alla Soul House di New York a finire il discorso in quei venti giorni? Ah, già. Can you handle two girls?